ecco non mi fa cambiare in chiesa e l'acqua sasso sasso c'è se sei se vuoi vuoi dire un bug della logitech cosa che cosa si interrompe la rapa ora siamo proprio vicini alla la conchina bastardo bastardo mi spagiola come vuoi mi sembrava ma io mi spara a casa ma sono tutti qua fuori tutti qua fuori questa è da sgozzare dove cazzo è da sgozzare era qua sto con la k12 ma non va ma molto scena un macchio di merda porca puttana va a scatti sto scelto vediamo qui sta la cassa ah ma sta la cassa ma non fammi tutto allora c'è la ricomanda lancia la cassa no 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 eeeeh non sono venuti i cassi cos'è? uccili e ts cos'è? uccili e ts rsb fanno il doppio caricatore i fucili trans eh sono ricchioli però questi fucili ecco uno alle spalle alle spalle alle spalle alle spalle alle spalle a uno qua fa faccia fai dietro eh non è vero ecco no ma dove cazzo è ah ah oh oh meno male che c'è un medico che vuole una nuova ah grazie medica dove sono tu Ah, qua si sfagiola, via, via! Sfagiola, via, via! Sfagiola! Ma dov'arriva? Ma su questo battlefield 4, medici, vabbè non che ne eser sto giro. Ah si, vada qua! Sono medici senza frontiere! E' un buon arma da console sta K2, dici è elma. E' un'arma un po' pretestuta sta ciavola. Non mi fa vedere che fa, fa, però poi comunque c'è il rinturo. Mi sembra lento, è lento. Eccolo qua, eccolo qua, guarda, guarda che lo visti. No, 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 è pieno C, ragazzi è pieno C. No, ma G è bello questo. Quelle casette qua che ti naspondi, hanno fatto saltare tutto. Che schifo. Non puoi esagerare. Noi, è venuta qua che ti nasce 조CCу. Oh che nulla? No, è il primo ben duplice? Non so cosa si 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 Cosa per il rilevare Ok Da questo, ce l'aveva davanti e non lo vedeva Mio dio Eh adesso però muoio Mio dio Mio dio muovesse C 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 Andiamo a prendere di nuovo, prendiamoci il coda Andiamo su F, vai in basso C Sì, arrivo Uomo a terra, uomo a terra, cazzo Non lo so, non volevo farlo prendere a quelli Nooo, non lo so, non l'ho vista, l'ho faccia di vince Grande Ma che cazzo è qua Ma che cazzo è qua C'è sì, via 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 Vieni Via Via Scamazzaren Grande Ragazzi un cecchino e li parte gotto Sono quasi morto, sai Oh be' dame S端ate passati davanti a un cecchino Sbonda Scendi Vai Scogatti Guro Mamma mia, bella cosa l'abbiamo fatto Sbombia Bambi Bispo Occhio no non c'è un'altra non può andare a parte la città questo discorso allora sensore ma non mi piace alle palle ballerci nemmeno la foto la foto non so se c'è chi non c'è il gioco all'inizio tutto di una bella e bella classe con gioco con un gioco testa c'è l'inverno io sono l'icotterino ma scusa quindi tu stai seguendo tutti gli odi del comandante no no non puoi capi stai cercando di capire come della cosa di tutti gli odi del comandante stai rimanendo soddisfatto dei suoi ordini io po beccazza ma baffanculo sono tutti segnati non ha un'altra ecco qua uno è morto l'azzo neanche trafondo la storia c'è l'auto è tipo 100 mila milioni di miliardi c'è un'altra parte qua arrivano ma la mamma mia io l'ho fatto in quella partita ma è un'arma proprio scrava oi scrava va schifo c'è demoncitto ma non è un'arma cosa? l'ha c'è il 3 mamma mia no è ricco dove sei morto io c'è l'aug invece è un'arma bella senza che cita troppo ma come fa a spalla la doglia in sto dove? ah che cazzo doglia non credo dove dove? sono con il giro perché mi ha amicato a mettere i mila in giro ma si fa pure Enrico spiega il momento quando spari dai tutti i colpetti eh eh vabbè cazzo in mezzo capisco ma cazzo sei vivo ogni volta spaventito è crema eh ah ecco noi abbiamo ammattato da scuola cazzo sbagliato cazzo ottimo mamma mia quante aziende sta su effe eeeh eeeh si scopo sulla collinezza ma stanno 10 di loro attento attento eh si ma stanno pure sulla montagna qua dietro questo pezzi di merda oh uccidilo ti prego uccidilo che non riesco a scavare questa merda di montagna o eeeh il